Martedì 31 maggio 2016 siamo stati a Firenze, alla Palazzina Reale, per seguire un altro convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. L'edilizia di domani tra innovazione e sostenibilità. Questo il titolo del convegno. È stata l'occasione per più di 250 architetti e progettisti di parlare di soluzioni progettuali, materiali e tecnologie. Molti gli interventi scientifici e molte anche le aziende presenti. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Siamo un'azienda dove ci occupiamo di materiali compositi e in particolare questa è la divisione che si occupa di prodotti sotto forma nanotecnologici per l'edilizia, per il risparmio energetico. Quindi si parla di coibenti e si parla di vernici termoriflettenti che vanno a completare quello che è un cappotto termico. Sono prodotti dove siamo riusciti con un bassissimo spessore a creare una coibentazione importante. Laddove prima si facevano cappotti termici con invasivi, con molti centimetri di spessore. Oggi siamo riusciti ad avere spessore irrisorio nel giro di 1, 2, 3 centimetri sposati con prodotti estremamente naturali. Grasselli di calcia aerea, grasselli di calcia pozzolana e calci idrauliche. Il tutto si ha così un cappotto performante negli anni, è durevole nel tempo, traspira moltissimo, ha un muro di traspirabilità di 4,5, è un prodotto completamente idrofobo e in scheda tecnica e soprattutto in scheda di sicurezza non si evince neanche un bollino arancione di pericolosità internazionale. Quindi si ha il massimo della coibentazione nel minimo spessore con il massimo del vantaggio termico nel tempo e soprattutto nella salubrità dell'edificio stesso, in quanto non si formano condense interstiziali, in quanto non si formano condense di risalita. Grazie.